Siamo con Stefano Vizzirani, un'altra Super Magic che apre un 2019 che ci auguriamo essere prodigo di successi quanto il 2018. Senz'altro, noi stiamo lavorando molto bene, la squadra sta lavorando molto bene. Abbiamo un po' timore di questa squadra che ci aveva sconfitto all'andata e questa settimana a causa anche la neve, gli allenamenti non erano stati fatti alla perfezione. Ma se questo è il risultato, benvenga, una squadra che ha giocato tutti i palloni, l'ultimo quarto ha giocato chi ha giocavo di meno. Per cui possiamo contare veramente su 10-11 giocatori. Una settimana, come hai detto tu, un po' tribolata per la neve, però la concentrazione è sempre restata al massimo. Ma sai, delle volte, quando ci sono questi contratempi, la squadra, quando la squadra è unita, si stringe ancora di più e dà qualcosa in più. Oggi è successo questo. Dove possiamo arrivare? Dove può arrivare questa Magic? Ma intanto possiamo arrivare a Monte Granaro domenica prossima. È un'altra partita molto difficile, Monte Granaro è una squadra imbattuta. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio, poi alla fine trareremo le somme. Diamo l'occasione, Stefano, per fare gli auguri di buon anno e di pronta guarigione anche al nostro general manager Maurizio Formichetti. Ma assolutamente sì, Maurizio, oltre ad essere un amico, è un grande uomo di sport. Sicuramente si riprenderà perché ha la pellaccia dura e gli facciamo, da parte mia, da parte di tutta la squadra, da parte di tutta la tifoseria, una rividercia molto presto a vedere questa squadra. Grazie Stefano e auguri per il 2019. Grazie a voi.